Grazie a tutti ancora. Adesso è il maestro di Gensola Sinipar, o Enzo, gli amici. Mi vorgerà un saluto di ringraziamento alle nostre cose. Maestro Gensola Sinipar, il figlio di una nonnina che noi ospitiamo da alcuni anni in questa situazione. Buonasera a tutti. Un saluto speciale all'Eccellenza Monsignor di Gennaro. Grazie all'Amministrazione per avermi concesso la possibilità di aprire l'occasione del decennale il mio pensiero di guardare il servizio prestato in questa casa. In primis va dato al suo fondatore, alla eminentissima ricorda di Sua Eccellenza Monsignor, che, come disse il poeta, voli, voli, fortissimamente voli. Ha voluto creare questa struttura con il preciso scopo di far trascorrere una serena e tranquilla vecchiaia alle persone anziane e sbandaggiate. Durante il mese di peccario, mia madre, già aperta la morbo di Parkinson e alzate, fu colta da uno scossezzo cartilico. In quell'occasione, ho potuto constatare una persona... Scusate. In quell'occasione, ci fu un cuore che fu soccorsa l'averizia e la piccolosità assistenziale monitorata, minuto per minuto, nell'arco della giornata. Sono certo che in un'altra struttura si è arrivata alla diversa maniera. La mia profonda caratteristica fa il personale fiendenistico, nelle persone di città, maissa e sua madre. Sempre presenti, vigili, disponibili e competenti. Grazie a tutto lo Stato assistenziale, persone veramente speciali, che con grandissima pazienza, amorevolezza e spirito di sacrificio, si prendono in cura queste persone. Un grazie particolare alle sue, che con grande dedizione, offrono quotidianamente i loro servizi a questa comunità. Tanto ho avuto a ognuno una parola di comporto e di soggetto. con lungo e rinnovato la vita e la modernizzazione, la mia profonda, grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie al maestro Sini Bardi, hanno ancora un po' di.